Salve a tutti, l'argomento di questa lezione è l'Europa e il mondo all'indomani del conflitto, cioè che cosa è successo dopo la fine della Prima Guerra Mondiale sia in Europa che nel mondo. Parleremo dei trattati di pace e delle loro conseguenze ed esamineremo anche la situazione dell'Impero Turco e del Vicino Oriente. Ma cominciamo senz'altro dagli eventi che seguirono alla fine del conflitto avvenuto come sappiamo, avvenuta la fine come sappiamo nel novembre del 1918. Dopo un paio di mesi i rappresentanti delle potenze vincitrici si riunirono a Parigi per decidere riguardo alle condizioni da imporre ai vincitori e naturalmente su un nuovo assetto territoriale da dare all'Europa. Gli uomini che presero queste decisioni erano i rappresentanti dei paesi che avevano dato un grande contributo alla vittoria e li possiamo vedere in questa foto dell'epoca. Da sinistra a destra Lloyd George, primo ministro dell'Inghilterra, Vittorio Emanuele Orlando che è il presidente del Consiglio italiano e poi c'è Georges Clemenceau il presidente del Consiglio francese e Wilson il presidente americano. In realtà il nostro presidente del Consiglio decise ben poco dal momento che il nostro rappresentante appunto Orlando dopo uno scontro con il presidente Wilson riguardo ai territori slavi della Dalmazia cioè la costa della nascente Jugoslavia che erano rivendicati dall'Italia ma sui quali il presidente Wilson oppose un netto rifiuto. Dicevo per colpa di questo scontro diciamo nell'aprile del 1919 Orlando in segno di protesta si ritirò la delegazione italiana da Parigi. Le trattative continuarono lo stesso tanto che la delegazione italiana fu costretta poi a ritornare sui propri passi rientrando certamente a Parigi ma chiaramente in una posizione ancora più debole. Terminati però i lavori a Parigi Vittorio Emanuele Orlando si dimise da presidente del Consiglio nel giugno del 1919 e perciò fu il suo successore il nuovo presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti a sottoscrivere il 10 settembre del 1919 il trattato di Saint Germain che definiva la posizione dell'Italia ma lo vedremo più in là. Ma per capire perché il presidente Wilson si era mostrato contrario alle aspirazioni italiane bisogna ricordare che egli già nel gennaio del 1919 aveva illustrato al congresso americano i punti su cui costruire una pace giusta ma anche duratura dopo alla fine del conflitto. Si trattava dei famosi 14 punti di Wilson che egli portò a Parigi come principi da tenere presenti nelle trattative per sistemare i territori dei paesi vendi. Tra questi 14 punti ce ne erano tre particolarmente importanti. Il principio dell'autodeterminazione dei popoli in base al quale un popolo doveva essere libero di scegliere a quale stato appartenere ed anche la forma di governo doveva scegliere. Questo riguardava soprattutto quei popoli che si trovavano al confine tra due o tre stati ma non solo questi popoli diciamo di confine. Il secondo principio importante era quello della nazionalità secondo il quale i confini di uno stato dovevano comprendere gli abitanti che avevano la stessa nazionalità. Questi due principi dovevano evitare in futuro conflitti legati al desiderio di indipendenza di popolazioni sottomesse. Il terzo punto, anch'esso importante, prevedeva l'istituzione della società delle nazioni, un organismo sovranazionale, neutrale, con il compito di risolvere pacificamente le controversie internazionali. Questi 14 punti non piacevano in verità neppure alla Francia e l'Inghilterra, paesi che avevano investito molte energie e risorse nella guerra e che adesso volevano raccogliere i frutti, tra virgolette, in termini di compensi territoriali, soprattutto a discapito della Germania, ritenuta la vera responsabile del conflitto. Tuttavia anche questi due paesi dovettero accettare la linea wilsoniana rispettando i suddetti principi nella spartizione, almeno quando determinavano una loro convenienza, ma non sempre ci fu coerenza. Per quanto riguarda la società delle nazioni, i buoni propositi si scondrarono però con alcuni limiti interni. Innanzitutto le decisioni dovevano essere prese sempre all'unanimità dei paesi membri, il che significava l'impossibilità di prendere decisioni rapide e condivise contro lo Stato che avesse aggredito un altro Stato membro. Inoltre gli Stati Uniti non vi aderirono in quanto il successore del democratico Wilson, il presidente repubblicano Harding, era contrario alla politica interventista del predecessore, in nome invece di una politica estera basata sull'isolazionismo, cioè su una politica di disinteresse nei confronti delle vicende internazionali. L'assenza degli Stati Uniti, che erano diventati dopo la guerra il paese più importante economicamente e militarmente a livello mondiale, questa assenza rendeva dunque debole la società delle nazioni e inoltre essa non disponeva neppure di un esercito per far rispettare le decisioni prese, ma solo di sanzioni economiche contro il paese ritenuto colpevoli di un'eventuale guerra. Non era questo però uno strumento di pressione molto forte. Nel corso della conferenza furono firmati cinque trattati di pace con le potenze sconfitti. Ne esamineremo solo tre, due in questo punto, il punto 2, e l'altro nel punto 3. Cominciamo dal trattato di Versailles che regolava i rapporti dei vincitori con la Germania. Nelle trattative per scrivere questo trattato emersero le differenze tra gli Stati Uniti da un lato e la Francia e la Gran Bretagna dall'altro. Infatti, mentre le due potenze europee volevano una punizione severa per la Germania, ritenuta colpevole della guerra e la cui condotta aveva esacerbato l'odio dei frangesi e degli inglesi, il presidente Wilson cercava di moderare questi propositi, chiedendo il rispetto dello spirito dei famosi 14 punti, ma non riuscì ad evitare una pace punitiva ed umiliante per la Germania che fu costretto a cedere molti territori, tra cui l'Alsazia-Lorena e l'Altaslesia e la Posnania, che furono ceduti invece alla Polonia, e anche le sue colonie. Poi l'esercito fu ridotto a solo i 100.000 uomini e inoltre fu condannata, diciamo così, al pagamento di tutti i danni arrecati agli altri paesi durante la guerra. Si trattava delle famose riparazioni che, secondo i calcoli dell'epoca, venivano fissate queste riparazioni in una somma enorme, spropositata, che avrebbe impedito per lungo tempo alla Germania di riprendersi economicamente. Ma vorrei fermare la nostra attenzione un attimo su questa striscia di territorio chiamata Corridoio Polacco, assegnato alla Polonia per consentire uno sbocco sul Mar Baltico. Era un territorio abitato da cittadini tedeschi, in contrasto con quando stabilito dal principio di nazionalità, ed era la dimostrazione che questo principio poteva essere applicato e poteva anche non esserlo, a seconda degli interessi, delle potenze che contavano, diciamo così. Inoltre la Germania non si rassegnerà mai alla perdita di questo territorio al punto che Hitler ne farà un argomento centrale della sua politica estera. Ed infatti, quando nel 1939 invaderà la Polonia, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale, lo farà rivendicando, giustamente, dovremmo dire, questo territorio. E passiamo al Trattato di Saint Germain, che riguardò invece il nostro paese, l'Italia. In base a questo trattato furono assegnate all'Italia i territori previsti dal Patto di Londra, alle cui condizioni avevamo deciso di andare in guerra, e cioè il Trentino, l'Alto Adige, abbiamo avuto l'Istria e tutto il bacino del fiume di Sonze. Ma non abbiamo avuto né fiume e né la Dalmazia, che è questa parte qui, diciamo, la costa di questo nuovo Stato, cioè la Jugoslavia. E la Dalmazia non fu assegnata all'Italia dal momento che questo territorio, questi territori abitati, insomma, questi territori sulla costa, erano abitati da Slavi ed erano rivendicati dal nascente Stato della Jugoslavia, perché era abitata appunto da popolazione slava in base al principio di nazionalità di Wilson. Su questo contrasto, come abbiamo detto precedentemente, si consumò la rottura tra il Presidente del Consiglio Italiano e quello americano. Quel che è certo è che il governo italiano ne uscì sconfitta agli occhi dell'opinione pubblica italiana, perché fu ritenuto incapace, il governo, insomma, i nostri rappresentanti, di far valere i nostri diritti. Dalla disgregazione dell'impero austro-ungarico, dell'impero ottomano e anche del vecchio impero russo, da questa disgregazione nacquero nuovi stati in Europa. E li possiamo vedere in questa cartina. Qui viene fatta vedere proprio la nuova sistemazione. Questi erano i territori del vecchio impero austro-ungarico. A questo punto è doveroso fare un breve esame anche degli eventi che si verificarono nel vecchio impero turco dopo la fine del conflitto. L'impero turco aveva partecipato alla guerra a fianco degli imperi centrali, cioè della Germania, dell'Austria e Ungheria, risultando quindi sconfitto. Con il Trattato di Sevre, l'impero turco, che esisteva da parecchi secoli, dal XV secolo, e che si era ingrandito conquistando molti territori, come possiamo vedere da questa cartina, fu ridotto però all'attuale Turchia, con questo Trattato di Sevre. Fu ridotto all'attuale Turchia e inoltre doveva pagare, come la Germania, le riparazioni, cioè i danni causati agli altri paesi. Queste condizioni erano pesantissime e non furono accettate dalla popolazione turca, che si ribellò, incitata e guidata dal generale Mustafa Kemal, per chiedere l'annullamento di queste condizioni. In breve tempo queste armate riuscirono a rovesciare il debole governo del sultano sostenuto da Francia e Inghilterra e a proclamare nell'ottobre del 1923 la Repubblica Turca e l'elezione di Kemal a presidente con ampi poteri. Con Kemal la Turchia si trasformò in uno Stato indipendente, laico e repubblicano, che ormai guardava più verso il mondo occidentale e non più verso quello arabo. Questo avvenne attraverso una serie di riforme che modernizzarono il paese facendolo diventare più occidentale, tra virgolette. E vediamo queste riforme. Intanto l'Islam non è più considerata religione di Stato. L'istruzione poi diventò pubblica e laica, fu adottato l'alfabeto latino al posto di quello arabo, fu concesso il voto alle donne e fu abbandonato l'uso del velo. Tra tutti questi provvedimenti, come è facile immaginare, incontrarono l'opposizione dei musulmani tradizionalisti. Infine si procedette ad una feroce pulizia etnica, cacciando dal paese le minoranze per turchizzare, tra virgolette, il paese. Ne pagarono le conseguenze soprattutto i kurdi, la più grande popolazione al mondo senza uno Stato. Si tratta oggi di 40 milioni di persone divise tra Iran, Iraq, Siria, Turchia e Armenia e che ancora oggi non ha una patria, uno Stato, questa popolazione. Infine, con la pace di Lausanne, le clausole del Trattato di Sevres furono attenuate e rese più accettabili. A trarre i maggiori benefici territoriali della disgregazione dell'impero turco furono la Francia e l'Inghilterra, ma vediamo come. Durante la Prima Guerra Mondiale, le popolazioni arabe erano state incitate dall'intesa alla ribellione armata contro l'impero ottomano, con la promessa che in caso di vittoria queste popolazioni avrebbero avuto autonomia e indipendenza. Questa ribellione venne fomentata da agenti segreti delle potenze dell'intesa, tra i quali divenne famoso il colonnello inglese Thomas Edward Lawrence, diventato famoso con il nome di Lawrence d'Arabia, che organizzò una guerriglia contro i turchi per la creazione di un grande regno arabo indipendente nel Medio Oriente. Durante la Prima Guerra Mondiale diede un grande contributo infatti per la liberazione della Siria e della Palestina dall'impero ottomano. Ma purtroppo per le popolazioni arabe, nel 1916, Francia ed Inghilterra, al di là delle dichiarazioni ufficiali, sottoscrivevano un accordo segreto chiamato di Sykes-Picot, dai nomi dei diplomatici francese e inglese che lo firmarono, accordo con il quale sostanzialmente si spartivano i territori del vicino Oriente appartenenti all'impero turco. Prevedendosi la nascita di uno stato arabo, ma di modeste proporzioni. Possiamo vedere le zone di influenza in questa cartina. Stavano cioè ingannando quelle popolazioni, illudendole con la promessa che alla conclusione della guerra avrebbero avuto autonomia e indipendenza. In realtà dietro le quinte si stavano già spartendo i loro territori. e per le due potenze europee il doppio gioco sarebbe andato avanti fino alla fine della guerra se nel 1917 il nuovo governo rivoluzionario russo non avesse reso pubblici questi accordi, scatenando la rabbia delle popolazioni arabe che giustamente si sentirono tradite da chi aveva promesso loro autonomia e indipendenza. Nello stesso periodo arrivò per gli arabi un'altra brutta notizia. Nel novembre 1917 il ministro degli esteri britannico, Balfour, inviò una dichiarazione al principale rappresentante della comunità ebraica inglese una lettera nella quale affermava che il governo britannico guardava con favore alla creazione di una national home, cioè di una dimora nazionale per il popolo ebraico in Palestina allora facente parte dell'impero ottomano. Questo per consentire agli ebrei dispersi per il mondo di poter ritornare nella propria terra. Il problema era che in Palestina vivevano popolazioni arabe che non accolsero bene la notizia che queste comunità ebraiche venivano ad occupare gli stessi territori. Cominciarono allora scontri tra ebrei e arabi palestinesi che nel corso della storia successiva spesso sfoceranno in scontri armati e in atti terroristici. Alla fine della guerra comunque Francia e Gran Bretagna che erano stati scoperti nei loro giochi spartitori cercarono di trovare una soluzione di compromesso tra le promesse di indipendenza ai paesi arabi e la loro volontà di controllare in qualche modo quei territori. Si arrivò così con il beneplacito della società delle nazioni alla creazione dei cosiddetti mandati con i quali i paesi non ancora in grado di governarsi da soli dopo tanti anni di sottomissione venivano affidati ad uno di questi due paesi la Francia e la Gran Bretagna potenze che li avrebbero tra virgolette aiutati nel loro sviluppo politico ed economico raggiunto il quale la potenza protettrice o mandataria si sarebbe ritirata per lasciare appunto autonomia ed indipendenza al paese. si trattava di un altro inganno in questo modo la Francia e la Gran Bretagna riuscirono comunque a controllare i territori desiderati come era scritto nell'accordo di Sykes-Picot preoccupandosi non tanto di farli crescere questi paesi ma di poterli sfruttare per i propri interessi politici ed economici. Ultimo argomento l'Europa senza stabilità La guerra era finita nel novembre del 1918 ma negli anni successivi la pace faticare a trovare spazio in molte zone d'Europa dove continueranno conflitti per definire i convini in alcuni paesi ci saranno scioperi e proteste per la crisi economica o addirittura tentativi di rovesciare il governo con la forza non dimenticando poi che ogni guerra genera profughi cioè persone che sono costrette ad abbandonare la propria terra. Inoltre scoppiò un'epidemia influenzale detta la spagnola perché la sua esistenza fu riportata dapprima soltanto dai giornali spagnoli in quanto la Spagna non era coinvolta nella prima guerra mondiale e quindi la sua stamba non era soggetta alla censura di guerra. Negli altri paesi il violento diffondersi di questa influenza fu tenuto nascosto dai mezzi di informazione che tendevano a parlarne come di un'epidemia circoscritta alla Spagna. Ebbene questa epidemia tra il 1918 e il 1920 uccise circa 40-50 milioni di persone nel mondo rivelandosi più mortale della stessa guerra che di morti ne aveva provocati circa 10 milioni. Poi c'era da affrontare come abbiamo già anticipato il problema dei profughi e delle minoranze etniche. La sistemazione dei territori europei infatti non sembra aveva tenuto conto dei principi dell'autodeterminazione e della nazionalità. Perciò molte minoranze si trovarono a vivere in paesi diversi dal proprio causando in molti il desiderio di andarsene e in altri casi se ne andavano per non essere perseguitati come accadde agli armeni in Turchia e ai russi che non appoggiavano la rivoluzione comunista. E poi c'erano in corso ancora micro-conflitti potremmo dire, come quello tra la Polonia e l'Unione Sovietica per questioni territoriali. Poi c'era la rivoluzione comunista in Russia che era diventata un modello per molti partiti e movimenti di sinistra in Occidente che cercarono per questo di replicare nei rispettivi paesi questa rivoluzione. Fare come in Russia fu uno slogan diffuso in molti paesi europei negli anni venti e non solo. Ma questi tentativi si conclusero generalmente male e provocarono in qualche modo l'instaurazione di regimi autoritari. Infine, la fine della guerra aveva certificato che le chiavi della politica mondiale erano passate dalla Francia e l'Inghilterra agli Stati Uniti che era diventata in questo momento l'unica vera potenza economica e militare in grado appunto di avere un ruolo predominante sulla scena politica mondiale.